Questa gente va trattata come cristiani, non come animali. In campagna, in campagna. Va trattata così, va messa con le scuole. Ma questo, questa è una stipulazione, credo da dare. I resident degli Aranci, con tanta fretta ribattezzato dal governo il villaggio della solidarietà e a ben 12 chilometri dal paese di Mineo, nel Catanese, al di qua della rete oggi. Residenti e sindaci della Piana, nessuno escluso, al di là gli immigrati, 1.500, quasi tutti i tunisini. Lì è un centro esplosivo, un centro che se non c'è un progetto immediato da parte del governo, con il territorio, così come avevamo fatto questo percorso, secondo me noi rischiamo che il nostro territorio perderà sicurezza e perderà controllo. Avevamo proposto a Marone di integrare gli immigrati all'interno delle città, 400-500 persone, perché pensiamo che gli immigrati e i siciliani non siano la spazzatura umana, come ritiene il ministro Maroni. Sono tutti dei bravi ragazzi, esseri umani che hanno bisogno d'aiuto. A questa gente ci deve dare aiuto, ma come? Come si ci deve dare aiuto? Disfogendo ogni cosa? Io non lo so ci sono, per carità, niente di da ci sono. Però il lavoro deve essere anche prima per i nostri giovani. Lì si può accogliere nei piccoli e medi centri, favorendo l'inserimento faciale. In un megacentro come questo, di detenzione, si paga l'affitto a un privato, alla pizzarotte. Di là solo lo sguardo di chi vede il proprio sogno scivolare via.